Venditalia 2022, la fiera della ripartenza continua, ci troviamo allo stand Kimbo, il caffè di Napoli e siamo in compagnia di Francesca Capolongo, trade marketing manager di Away From Home Francesca, dopo due lunghi anni, ovvero da quando ci siamo incontrati a Sigep, ti do la benvenuta Grazie mille Fabio, grazie Siamo però a Venditalia e quindi dobbiamo badare tutta quella che è l'offerta destinata al popolo della distribuzione automatica e dell'OCS che direi si è riunita dopo quattro anni con grande entusiasmo, con grande fermento e sta diciamo anche cercando di capire che cosa presenta Kimbo Kimbo quest'anno ha presentato tante novità anche e soprattutto perché non tenendosi da ben quattro anni Venditalia ci sono anche le cose che sono state realizzate pochi mesi prima del 2022, 2021, 2020 e quindi tanta roba Sì, assolutamente tanta roba, noi siamo qui al Venditalia con l'ultimissima nata che è la linea delle capsule dedicate, in esclusiva ai negozi specializzati che sono le meraviglie del gusto, con tre referenze a Marti, Capri e Pompei Non solo questo ma tanto altro come dicevi, quindi ci sono le capsule in alluminio che anche sono le ultimissime nate ma non ci dimentichiamo delle cialde compostabili Kimbo con la macchina metal dedicata e studiata per un espresso perfetto Per quanto riguarda la distribuzione automatica, quindi questo era tutto il mondo dei negozi specializzati Ci spostiamo sulla distribuzione automatica dove abbiamo delle referenze dedicate con diverse miscele e diversi sentori e distributori con personalizzazioni dedicate Non solo, l'ultimissima novità è lo sparkling coffee, una bevanda frizzante al gusto di caffè 100% arabica Quindi queste sono tutte le novità che potete trovare presso il nostro stand Siamo al padiglione 4 di 63 e quindi aspettiamo numerosi tutti Beh, diciamo che questa è un'intervista che andrà online immediatamente dopo il termine della fiera ma non avete bisogno di richiamare l'attenzione per far venire le persone perché immediatamente dietro la telecamera ci sono più persone che continuano ad affollare lo stand per avere informazioni non solo sui prodotti che hai citato ma ad esempio sul liquore al caffè che è molto ben esposto sulle vostre praline di cioccolata col chicco di caffè all'interno sono quelle primizie di cui magari voi non tenete tanto conto ma che piacciono tanto sia ai consumatori che ai gestori dei negozi e del vending Assolutamente, non ci dimentichiamo della linea dedicata a cos'è Bekimbo quindi un'intera linea di capsule e cialde dedicata al brand che viene esposto anche questo qui in fiera quindi diamo risalto non solo al brand Bekimbo ma anche una linea dedicata al cui concetto è convenienza e qualità quindi assolutamente tante tante novità e allora Francesca per tutti coloro che sono dall'altra parte stanno seguendo l'intervista e desiderano entrare in contatto con voi per avere maggiori informazioni e chi sa imbastire instaurare un rapporto commerciale per iniziare una collaborazione con la Kimbo qual è l'indirizzo di posta elettronica a cui poter scrivere? infocchiocciolachimbo.it veramente estremamente semplice molto molto semplice e allora Francesca ora finalmente andiamo a dedicarci un momento di relax scegliamo se prendere un caffè in cialde cos'è o Kimbo un caffè al distributore automatico o ancora meglio visto la temperatura che abbiamo trovato qui a Milano una bella lattina di caffè frizzante lo Sparkling Kimbo Drink che è certamente un prodotto strepitoso grazie per la collaborazione grazie a voi grazie a voi